Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi vi voglio parlare di Elder Scrolls Online, lo so ci ho già fatto dei video ma il motivo per cui ve lo porto nuovamente è per darvi un parere da giocatore che per anni ha ignorato questo gioco. Erano diversi i punti che non mi hanno mai convinto di questo titolo ad esempio un housing che sulla carta sembrava inutile, il combat che era un po' legnoso e quelle meccaniche di leveling che non erano troppo chiare. Ovviamente bisogna considerare che il gioco è in inglese e quindi è un altro punto a suo sfavore. In realtà ultimamente mi ci sono buttato anche grazie all'ESO Plus che è un sistema di abbonamento che permette di godersi il gioco con delle aggiunte piuttosto interessanti che non sono pay to win. Ad esempio avete la banca più ampia, la sacca illimitata per le risorse e l'accesso gratuito a tutti i DLC. Da giocatore che snobbava ESO, Elder Scrolls Online, dopo svariate ore mi ci sono appassionato e mi sono detto facciamo un video da un giocatore che sia proprio convertito da chi lo snobbava a chi ci sia appassionato. Così vediamo se riesco ad avere anche su di voi lo stesso effetto insomma e darvi un parere appunto di chi non è un fanboy, chi non nasce come un fanboy. Ci sono diversi punti di cui vorrei parlarvi quindi vado un po' in ordine sparso e intanto come già state vedendo vi mostro i momenti di gioco che ho registrato in queste ore. Vedrete sempre probabilmente la stessa zona della gilda dei ladri a cui io mi sono dedicato nelle ultime 20 ore. Comunque iniziamo. Una delle prime domande che si fanno è conviene iniziare a giocare a ESO nel 2022? Beh tenete conto che se iniziate oggi avete parecchi anni di patch e DLC alle spalle quindi avete dei notevoli contenuti in più rispetto a quando il gioco è uscito da pochi giorni. Avete gilde in più, territori in più e soprattutto città e territori presenti anche nella saga offline dei vari giochi di Bethesda. Beninteso che se avete sempre odiato tutte le ambientazioni, i titoli Bethesda, non riuscirò a convincervi a provare questo gioco. Ma se siete tra coloro che hanno amato Morrowind, Oblivion, Skyrim o addirittura vi siete spolpati anche Daggerfall ai tempi, continuate con questo video. Io ricordo 20 anni fa quando giocarei a Morrowind e qua iniziamo uno dei primi punti di cui vorrei parlarvi. Nonostante io non amassi le ambientazioni aride e desertiche perché eravamo a Wadenfell nel territorio di Morrowind che trovate anche in ESO, mi colpirono le musiche e soprattutto il ciclo giorno-notte e aveva degli effetti atmosferici incredibili e quindi cambiare idea. Insomma Morrowind me lo sono finito ai tempi 20 anni fa 2002-2003. Me lo comprei anche per consola a dir la verità, per averlo anche lì. Quello che ritrovo in ESO è anche qui la cura per la musica e i suoni e mi è capitato di trovarmi in una zona delle quest e sentire dei tuoni in lontananza. Questo mi è successo più volte e a volte è scoperto un temporale, appunto i tuoni sono diventati proprio temporale, altre volte invece è tornato il sole. Mentre invece mi capita di andare offline, rientrare dopo qualche ora e ritrovarmi di notte e vedo tutte le costellazioni in cielo visibile ovunque mi trovi che io sia in città, che sia nelle praterie, c'è proprio un'atmosfera con anche la musica dietro. E quindi questo è uno dei punti che mi ha colpito molto. E c'è un continuo richiamo a tutta la lore degli Elder Scrolls, le casate di Morrowind ad esempio vengono citate, ci sono eventi in città, appunto come vi ho detto prima ci sono città iconiche presenti anche ad esempio in Skyrim, in Morrowind, che in Oblivion volendo, c'è la città imperiale. Ma se non ve ne intendete, vi volete avvicinare a questo titolo e non avete nulla diciamo nel vostro background videoludico o ve li giocate o comunque online vi potete trovare una serie di siti che vi insegnano la lore, vi spiegano tutti gli eventi successi in questo mondo, così come in game potete trovare anche tanti libri che vi parlano delle varie divinità, le varie corporazioni e tra l'altro grazie agli Italian Scrolls Online potrete leggerli pure in italiano con la mod in italiano. Ma questo poi ne parliamo dopo. Nulla vi vieta di godervi il gioco anche se non avete la conoscenza degli usi e costumi. Le cose in gioco da fare. Allora io mi sto cimentando come ladro anche una meccanica inedita per un gioco online, infatti anche in Skyrim e negli altri titoli potete borseggiare, uccidere e assassinare i PNG, rischiando a vostra volta la vita, ma avete la possibilità di avere appunto una ricchezza in più con questo metodo. Potete anche scassinare casseforte nascoste, riciclare il contenuto ai citatori o venderli addirittura e col DLC della Gilda dei Ladri potete scalare le gerarchie e diventare un capo ad interim della Gilda dei Ladri che è presente in una città specifica che è stata aggiunta poi con tutta la regione circostante. Ovviamente se non vi piacciono i ladri nulla vi vieta di diventare un mago, un evocatore, un necromante, un guerriero, un acero, un assassino, un mix di tutte queste cose. E infatti le possibilità in gioco sono così sterminate al punto che potreste dover cercare qualcuno che vi consigli come non spendere i punti nelle skill sbagliate, perché poi più fate cose più sbloccate cose su cui potete spendere punti. Questa è una meccanica che poi in caso se vi interessa lo approfondiremo un gioco. Ma il punto forte del gioco sono le quest e questo lo trovo sorprendente come cosa. A parte le ripetibili, che sono abbastanza banali, vi fanno fare delle cose, ma le ripetibili sono una minima parte, che farete poi per fare reputazione, ma quello è un altro discorso. Il mondo sembrerà aver sempre bisogno di voi e questa è la sensazione che ho avuto. Perché la mia esperienza mi ha insegnato che si accettano alle quest solo quando si ha tempo di giocare. Perché non sono mai vai, uccidi 15 lupi, 10 galline, recupera tre pezzi di carne. Piuttosto vi mettono di fronte a delle storie misteriose e con tanti colpi di scena, con finali magari in cui potete fare, scegliere la sorte di qualcuno o di un qualcosa. E quello che mi ha fatto esclamare è stato, cioè queste quest mi hanno fatto esclamare, ma che roba! E non è neanche la quest principale questa, cioè me lo sono proprio detto, mi sono reso conto che appunto anche le quest più belle partono da un semplice tizio che ci ferma e dice ti prego fermati un attimo, ho bisogno di te, oppure vedo qualcuno imprigionato, guardo intorno, c'è uno che vuol parlarmi, mi dà la quest per capire cosa è successo quello imprigionato, insomma, e poi potete deciderne magari anche la sorte. Inoltre, un'altra cosa bella, anche mentre vi spostate nel mondo potete fare il gathering, l'arvesting, insomma, andare a raccogliere le cose, andate da punto a punto per una quest, potete trovare forze da scassinare, trovare dei world boss da affrontare in compagnia, oppure appunto raccogliere erbe, minare metalli e così via. Un'altra cosa importante, potete unirvi fino a 5 gilde. In pratica, 5 gilde di giocatori, quindi una, due, tre, quattro, cinque, e lo potete usare una alla volta, insomma, per accedere al loro mercato online, ed è l'unico modo per vendere oggetti, quindi sto facendo già qualche soldino così, decidete il prezzo, guardate magari la quotazione con delle mod e potete vendere. Non c'è la casa d'aste, ma mettete in vendita le vostre cose. I soldi in gioco appunto sono importanti perché vi permettono di comprare appunto all'asta, di comprare dei servizi come le riparazioni delle armature e le case. E qua arriviamo a un altro punto. Le case sono tante. Si possono acquistare con i soldi di gioco o con le corone. Ma a cosa serve una casa? Allora, all'inizio mi avevo un po' demoralizzato il fatto della casa. Allora, la potete ammobiliare. Alcuni mobili, solo alcuni, vi permettono di metterci oggetti all'interno, quindi avete uno storage vostro. Potete mettergli il vostro arredamento e ci sono tantissimi stili, lo stile orchesco, lo stile elfico, ci sono un sacco di cose da metterci. Potete metterci anche i tavoli del lavoro. Se ne può fare meno della casa, sì. Ma il punto, di cui mi sono reso conto, è che ESO vi coinvolgerà talmente tanto facendovi sentire parte del mondo, facendovi amare alcuni luoghi piuttosto che altri e sarete voi stessi a volerci investire del denaro e comprarvi una proprietà, un piccolo terreno, un giardino, con anche il giardino magari vi avrete dato anche l'esterno, insomma. Io ancora non l'ho comprata, ma vagando per le varie quest, esplorando i vari territori, ogni tanto trovo l'icona di una casa, entro, la vedo, ne vedo il prezzo, la giro. Ve la potete visitare e mi sto un pochino decidendo su qual è la migliore, qual è il miglior luogo. Allora, che altro dire? Il gioco finora lo reputo un viaggio. Sono partito da una regione verde, Blackwood, dove ho fatto una decina di ore, ci ho passato delle belle quest. sono passato poi nella città desertica perché appena ho fatto l'esoplast sono passato a fare la gilda dei ladri che adesso sto per finire, una dozzina d'ore più o meno come durata, ma giocandoci proprio assiduamente, se no anche di più. E vorrei diventare un alchimista e ci vorrà tanto tempo per questo. Dove raccoglierebbe fare esperienza, insomma. L'ultima cosa di cui voglio parlare è il fatto dell'autolivellamento. Questa è una cosa che mi ha fatto stracciare il naso in Oblivion, non mi piaceva, anche nei full out mi pare. E in realtà mi sono reso conto che non è male. Perché? In questo caso non vi ritroverete mai, se non in alcuni pochissimi casi, in frustrazione perché è una zona troppo difficile e non potete andare a fare i gathering in una zona o questa in una zona. Qua potete accettare tutto, tutto si livella al vostro livello. Quindi è uno di quei pochi giochi online dove potete iniziare a fare crafting e gathering già dall'inizio, anzi è anche consigliato. Sarete in grado di esplorare qualsiasi territorio, fare qualsiasi missione che incontrate. E potete scegliere solo da dove cominciare. Il dubbio è, ma da quale espansione comincio, quale devo comprare? Allora se comprate su Steam, comprate tutto. Vi danno tutto tranne l'ultima espansione. Mettiamo caso che le avete tutte, come me, fino all'ultima. Lui parte da una zona, ma se in quella zona non vi piace, andate con il teletrasporto a pagamento, costa qualche decina di moneta d'oro, vi portate, non so, a Morrowind e da lì iniziate la serie di quest e sulla mappa vi indicate quante quest principali ci sono, quante ne avete fatte, oltre alle miliardi di secondarie che potete fare. Quindi esplorate quello che volete, fate le chain quest, arrivate fino al livello 50 e poi iniziate ad accumulare i champion point. Quindi potete continuare a fare quest, voi continuate a accumulare i champion point, le costellazioni, quella è una cosa che non ho ancora approfondito. Potete fare i dungeon, c'è il dungeon finder, il pvp e prendere i vari collezionabili, le mount e tutte le cose. Allora, in conclusione, noi parliamo sempre di MMORPG stagnanti, almeno qualcuno ne parla online, insomma, qualche guru dice sono stagnanti. ESO, secondo me, è una rivoluzione al genere, perché comunque prima persona, terza persona, lo stealth, l'evocazione, il crafting, cioè tutto nell'insieme non c'è un qualcosa di simile con una tale libertà. Quindi è una rivoluzione, per me sì. È un peccato che in Italia se ne parli poco e io spero che un domani Bethesda decida di implementare la lingua italiana. Ne guadagneremmo, nel senso che avremo tanti giocatori italiani in più. Al momento però c'è questo lavoro titanico dell'Italian Scrolls Online, che non fanno impiangere la lingua italiana, quindi io consiglio a quanti di voi di scaricarla e giocarci. Poi, se un domani diventa ufficiale, non dobbiamo più magari far lavorare questi ragazzi gratuitamente, vabbè, loro vanno a donazione e soprattutto avere magari le espansioni subito, direttamente. Magari anche un doppiaggio, ma non chiediamo troppo. Però, ecco, è un peccato perché io, quello che sto dicendo in questo video, è che in gioco merita tantissimo. In conclusione, spero di avervi dato con questo video un'ispirazione a provare anche i stessi ESO. vi chiedo di farmi sapere che cosa ne pensate e ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!